ciao ragazzi volevo far vedere che cosa mi ha mandato creazioni tufano già possiamo vedere che al limone apriamo la scatolina e vediamo questo bellissimo profumo ambiente cioè proprio l'eleganza qui al gusto limone come brilla mamma mia è bellissimo qui abbiamo anche le bacchette non potete capire l'odore di limone che c'è in questa casa chiudiamo di nuovo e inseriamo i bastoncini guardate che bellezza vi consiglio assolutamente di andare a vedere la loro pagina creazioni tufano che realizza veramente di tutto bomboniere profumatori ambienti tantissime altre cose veramente non potete capire la loro pagina creazioni tufano non potete capire la loro pagina creazioni tufano non potete capire la loro pagina creazioni tufano